Primo maggio senza vittime, per fortuna, nei reparti covid dell'azienda ospedaliera Sampio di Benevento. Sale ancora però il numero dei ricoverati, sono 85 i degenti, 6 le persone in terapia intensiva. E prosegue senza sosta la campagna vaccinale, che ha raggiunto 114.000 inoculazioni. Da lunedì i vaccini ai detenuti nel carcere di Benevento e da Erola. Necessario garantire il diritto alla salute anche in carcere, ha precisato il garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, che poi ha lanciato l'appello ai reclusi ad aderire. I detenuti che fino adesso hanno mostrato maturità e responsabilità durante la pandemia, mi auguro che accedano con il più alto numero, sapendo che un detenuto vaccinato è più libero di muoversi all'interno delle strutture penitenziarie. Considero la vaccinazione un diritto dovere per chi entra in carcere e per chi è dentro la considero un obbligo morale. Aggiunge poi che sarebbe utile utilizzare i vaccini monodose per superare i problemi burocratici e fa il punto sulla situazione in Regione. Attualmente 656 detenuti vaccinati nelle carceri di Salerno, Evoli, Vallo della Lucania, 16 persone nel carcere minorile di Nisita, 84 tra il carcere di Foggio Reale e il carcere di Secondigliano e 357 con monodose solo nel carcere di Santa Maria Caponezza. Mi auguro che si facciano le vaccinazioni, a prescindere dall'età, per una scelta soltanto del singolo detenuto.